Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Fall Guys, con la nostra tic tac, la nostra tic tac che ancora dobbiamo riuscire a centrare una prima vittoria, non siamo mai riusciti a vincere ancora una partita, seguiti miei. Detto questo, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti e per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di iscrivervi sui social, mi trovate come Maullo941 per gli aggiornamenti che possiamo aprire nel canale e su Facebook e se volete dare delle donazioni per sostenere il canale potete farlo tutta la barra che vi ho detto con il link che trovate in descrizione al video. Detto questo, partiamo signori. Allora signori, prima di partire con il video io voglio cambiare colore al nostro tizio perché secondo me ci porta un po' di jella. Andiamo col giallo e col verde e nero, signori miei, come una volta mi hanno scritto nei commenti che così siamo quantomeno dei giocatori del sassuolo, ecco, vedete? Portiamo un po' di calcio in Fallout, signori miei, così siamo sempre decarcerati però con i colori del sassuolo, quindi se c'è qualche tifoso del sassuolo ve lo faccio sapere qua in descrizione, almeno spero gli faccia piacere. Detto questo, signori, vediamo quale sarà il primo livello che ci tocca affrontare oggi. Ok, primo livello di Warly Gigi, quello delle eliche, va per capirci, palese palese, quello delle eliche, va bene. Vediamo cosa riusciamo a fare, signori. Vediamo cosa riusciamo a fare. Questo l'abbiamo fatto tante volte, già, non è la prima volta che lo facciamo. Mi piacerebbe arrivare magari un'altra... Oh, partiamo come primi, raga. In prima fila, i colori portano bene. I colori verde e nero portano bene. Dai, 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 dai. Ci vogliono superare, già, già ci vogliono superare, nemmeno è iniziato... Ah, dai, ok, il primo l'abbiamo saltato. Perché parlo? Perché parlo? Perché parlo? Dai, ok, bello, bello questo salto così sportivo. Questo è doppio. Dai, 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 dai. Dai, 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 no, 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 non cascare di sotto, non cascare di sotto, salta. Non cascare di sotto, salta, 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 dai. Alzati, tic tac. Forza, dai, 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 non mollare. Brava la mia tic tac, brava la mia tic tac. Devi saltare di qua. Dai, ma perché mi svieni così, ticchi? Da oggi ti chiamo ticchi. Dai, ticchi, salta, salta di qua. Salta di qua. E salta... Se quel tizio lì si leva dalle scatole, io ci riesco a subire... No, vabbè, dai, raga, ma è impressionante. Siamo ultimi, proprio quando si dice ultimi. Però gli ultimi saranno i primi, ricordatevi sempre questo detto, signori miei. Ricordatevi sempre questo detto, gli ultimi saranno i primi e noi saremo i primi in questo livello. Magari i primi no. Però ci riusciamo a qualificare, raga, ci riusciamo a qualificare. Me lo sento, me lo sento, me lo sento. Guarda come ci siamo qualificati bene a posto. Mamma mia. Non me ne va bene uno in questo gioco, raga. No, già 10 si sono qualificati, raga, ma stiamo a scherzare. Proviamo la sorte, raga, proviamo la sorte, proviamo la sorte, proviamo la sorte, la sorte. Non ci sorride per niente, la sorte, la sorte. Non ci sorride per niente. Dai così. Dai, 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 dai così. Dai, 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 dai. Salta lì, salta. No, non mi puoi cadere all'ultimo, zio. Non mi puoi cascare all'ultimo. Ma in 27 già si sono qualificati, in 27 già si sono qualificati. Salta, salta, tic-tac. Grande, tic-tac. Salta, tic-tac. Dai così, tic-tac. In 40, no, raga, è finita. 42, è finita. Ma porca di una paletta. Ma perché il primo tentativo non mi riesce mai? Ma perché? La prima partita non mi riesce mai, raga. Ma perché? Uffa, che paranoia. Exit. Esci, dai. Abbiamo fatto schifo. Eliminate al primo turno, dai. Da non credere. Da non credere. Sì, che cosa ci festeggia la tic-tac? Signori, signori. Ritendiamo, ritendiamo la fortuna. Ok, signori. Secondo tentativo. Il Seasoul l'abbiamo fatto prima. E siamo riusciti a qualificarci. Se caschiamo, se veniamo eliminati pure stavolta, dico. Questo video è assurdo, però va bene. Però va bene. Ci possiamo riuscire, signori. Calma, concentrati. Partiamo in prima fila. Quindi siamo noi a decidere come muovere le tavole. Quindi non facciamoci prendere dall'ansia. Non facciamoci prendere dall'ansia. Dai, 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 dai. Siamo noi a decidere il movimento delle tavole. Bello, così. No, 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 no. Dai, così. Grande l'anno sta tic-tacca. Abbiamo perso un po' di posizioni all'inizio, però no, 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 no. Grande. Dai, così, dai, così. Vai di là, 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 vai di là. Brava la mia tic-tacca. Alzati, alzati, alzati. Ce la possiamo fare? Mamma mia, che cos'è? Un free string, praticamente. Mi arrivano dal sopra. Ok. Dai, dai, dai. Non muovete male quella tavola. Non muovete male quella tavola. Dai, 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 dai. Vai sul viola, vai sul viola. Grande, vai sul viola. No, 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 no. Vai sul blu, vai sul blu. Bello, così, dai. Ce la facciamo, raga. Forse ce la facciamo, forse ce la facciamo. No, no, perché parlo? Ma perché parlo io? Ma perché parlo? Ma perché parlo? Mannaggia di una miseria. Alzati, tic-tac. Non rotolare, non rotolare. Tic-tac, non rotolare. Devi stoltarti, non rotolare. Dai, salta. Ok. Dai, 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 dai. Viola, viola, viola. Viola mi sta simpatico. Il viola mi sta simpatico. Dai, 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 dai. Andiamo sul giallo, andiamo sul giallo. Dai che sta tornando anche il viola da quel lato. Dai che sta tornando il viola da quel lato. Mi hanno spinto, mi hanno spinto. Dai, alzati, tic-tac. Ma mi hanno spinto. Ma perché di questo gioco è così infame? Dai, 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 dai. Alzati, alzati, tic-tac. Dai, 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 dai. Giallo, 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 giallo. Alzati, alzati. Ma che problemi di deambulazione c'ha, tic-tac, oggi, signori miei. Dai, 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 giallo. Andiamo sul giallo, alzati. No, vabbè, no, vabbè, raga. Sto per tirare il joystick, ve lo giuro. Sto per tirare il joystick. C'ha problemi di deambulazione la tic-tac, oggi. Ma stiamo scherzando. No, 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 no. Ok, ok, salta lì. No, 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 no. No, vabbè, no, raga. Partivo in prima fila. Partivo in prima posizione. Potevo decidere... Guarda che, guarda quello là che non mi fa raddrizzare. In 18, cioè, si sono qualificati. Raga, in 18. In 18, dico io. Come faccio? In 19, dai, 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 dai. Sul giallo, sul giallo. Dai, 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 dai. Sul viola. Vai, 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 vai. Forse ci riesco. Forse in 21, in 21. Siamo ancora in corsa, raga. In 22. Siamo ancora in corsa, raga. Siamo ancora in corsa. Dai, 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 dai. In 25. Siamo ancora in corsa. Siamo ancora in corsa, raga. Dai, 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 dai. Noi, dai, dai. In 27. Siamo ancora in corsa, raga. Siamo ancora in corsa. Dai che la stacchiamo. Dai che ce la portiamo a casa Dai che la portiamo a casa In 34 36 Dai che 37 Dai 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 che ce la portiamo a casa Ce la portiamo a casa Raga Mamma mia che sudata Mamma mia che sudata Impressionante Ce la siamo portati a casa però Va bene così Va bene così Molto 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 complicata Ma ce la siamo portati a casa Va bene Lui ha abbandonato le speranze Abbandonato le speranze raga Abbandonato le speranze Ne manca uno a qualificarsi E nessuno sta correndo Ah ok finito Round over Signori miei Prossimo round È Hit Parade Allora Hit Parade L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto un po' di volte Hit Parade Quindi più o meno Sappiamo come muoverci Non facciamo cagate Signori E cerchiamo di superare Il secondo turno Dai 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 così Dai così Hit Parade Sì l'abbiamo fatto Da che posizione partiamo? Da che fila partiamo Signori Prima seconda Terza o quarta fila Io non mi vedo da qua in alto Ah perfetto Siamo in quarta fila Ottimo Mamma mia Mamma mia Dai 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 Sistemiamo la telecamera Signori perché Perché ho saltato Perché ho saltato Sono scemo Sono scemo Ho saltato quando non dovevo saltare Dai così Dai tic tac Dai tic tac Aprite le porte Aprite la porta Devo passare Ok Mamma mia facciata presa precisa Calma calma Mamma mia Dai 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 Le sto più a tutte raga Le sto più a tutte Ho un attimino il timing sbagliato In nove già si sono qualificati raga In 13 In 19 23 E' finita 25 27 28 E' finita Raga ma Porca di una paletta Ambriaca Dai Mamma che video brutto Raga Ai 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 E vabbè E' andata così raga E' andata così C'è quando si fa bene C'è quando si fa proprio male Come è capitato questa volta Detto questo ragazzi Vi ringrazio per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao